A poche ore dalla sua prima partita, nella cosiddetta Pick Round, in programma venerdì a Linz, nel campionato Ebel, l'Hockey Club Bolzano con il suo amministratore delegato Dieter Knoll ha siglato un accordo pluriennale con Johan Wolfhard, direttore generale di Alperia, la nuova società energetica altoatesina nata dalla fusione tra Zen Energetica e Cell. I dettagli dell'accordo sono stati resi noti questa mattina all'Hotel Laurin di Bolzano. Alperia è la quarta multi-utility del Nord Italia, terza per produzione da fonti rinnovabili ed è il secondo main sponsor a fianco del marchio Alto Adige della società di hockey su ghiaccio Bolzanina che ha vinto più titoli nella storia dell'hockey in Italia. E sostenere l'Hockey Club Bolzano nel campionato Mittele Europeo Ebel per Alperia è stato un passo quasi logico. Alperia è una nuova società che va lanciata sul mercato altoatesino e ha bisogno di tanta visibilità. Visibilità abbinata ad emozioni come le può dare lo sport è sicuramente uno dei mezzi migliori per creare questo grado di conoscenza della nuova società Alperia in questo territorio dove noi operiamo. Un accordo che permetterà alla formazione bianco-rossa di trovare ed avere per così dire nuove energie. Sportivamente siamo forti, economicamente abbiamo fatto il primo passo grande con un partnership come l'Alperia però non è finita, dobbiamo lavorare e trovare dieci co-sponsor che ci promettono di navigare in acque più tranquilli che fino adesso chiaramente sono sempre un po' il mare è un po' mosso e questo voglio arrivare dai bilanci equilibrati e anche poter permettermi o permetterci di avere delle strutture più professionali vuol dire che nell'ufficio dell'Hockey Club Bolzano sono persone molto validi, competenti che possono lavorare tutto l'anno per l'Hockey Club City Hall. Ed in vista della partita di venerdì contro il Linz, squadra che appare forse la più attrezzata per conquistare il titolo Ebel, arriva a un invito particolare ai tifosi e ai telespettatori di Video 33 dall'amministratore delegato di Tercnol. Posso già comunicare che avremmo l'Inz la partita di venerdì già un Linz Bolzano una diretta con il nostro partner della Rosengarten Group con Video Bolzano 33 dove chiaramente la partita viene in casa dei nostri tifosi che i tifosi che voi ripetono sono più solo di Bolzano ma tutto Alto Adice perché abbiamo tifosi dal Resia fino a Dobbiaco, dal Breno fino a Salorno e questo penso che i tifosi sono molto contenti se ricevono una trasmissione diretta grazie anche al gruppo Rosengarten dove io chiaramente mi presto volentieri di dare tutte le iposità che il Rosengarten può trasmettere in diretta a queste partite del Hockey Club Bolzano City Hall Alto Adice.